Ben trovati nell'angolo dello sport, dopo il gran parlare che si è fatto nei giorni scorsi del pareggio 2 a 2 sul campo dell'Avellino, il Pescara si sta preparando per la prossima partita di domenica contro Lempoli, intanto come sapete ieri c'è stato anche il risultato Carpi-Provercelli di 2 a 0, il Carpi si è portato a 44 punti, il Provercelli a 29, comunque sia i numeri, questo è importante perché i numeri sono aridi, però nella loro aridità riescono a farci capire bene le cose. Il Pescara al momento attuale si trova a 7 punti dalla zona play-off, tutti dicono che la zona play-off è off-limits per noi, sarebbe fuori portata, solo un miracolo, ripartendo da una vittoria sull'Avellino e poi inanellando una serie di risultati positivi potrebbe riportare il Pescara verso l'alto. Nella normalità però delle cose dobbiamo dire che ci troviamo a più 5 rispetto alla zona play-out, più 5, però ci sono due squadre dietro di noi che potrebbero avvalersi dei recuperi che devono giocare, per cui potrebbero riprenderci. In definitiva siamo in una sorta di limbo, l'umore generale della tifoseria è negativa. Oggi come oggi li vedo un pochino, dico che brutto termine sto per usare, scoglionati, però rende l'idea. Si trovano in questa situazione i tifosi che in definitiva, dopo aver assaporato all'inizio con Zeeman la possibilità di poter lottare per i play-off, quantomeno, e piano piano hanno dovuto ridimensionare le loro aspettative. Adesso la speranza è che si salvi la squadra senza correre ulteriori rischi. Per potersi salvare il Pescara deve fare il punto in queste prime quattro partite che sono, ve le ricordo in ordine di data. Domenica Lempoli, partita dura, senza dubbio. Giovedì prossimo, quindi domenica Lempoli, giovedì in orario serale trasferta a Brescia, subito dopo domenica trasferta a Palermo, poi partita in casa contro il Bari. Vedete sono quattro punti, quattro punti, quattro partite che se ci dessero, dico sei, sette punti, allora si potrebbe anche sognare, però in quattro partite può succedere di tutto e il contrario di tutto, come si vuol dire. Intanto Massimo Epifani dice io lotto partita per partita, i ragazzi mi stanno seguendo, il 3-5-2 come modulo nuovo pare che cominci ad essere capito e apprezzato dagli stessi ragazzi, inoltre dovrebbero rientrare Falco e Cappelluzzo, dopo Empoli rientreranno Valzania e Capone che per domenica sono tutte e due impegnati con le rispettive nazionali. In definitiva è un momento interessante, un momento davvero interessante perché c'è da scoprire questo nuovo volto del pescare. Nell'edizione di ieri vi ho parlato dell'interessamento di Candeloro ad entrare in società, nessuno ha negato che ci sia questo interessamento, anche questa è una posizione che dobbiamo seguire, vedere e valutare nelle prossime ore. Per ora un affettuoso abbraccio a voi tutti, come sempre da Gianni Lussoso, un ringraziamento particolare all'amico e collega, il regista Leo Di Blasio, appuntamento alle prossime edizioni di TVQ Sport.